eccoci qua in un video di fortnite allora niente non so quando poi andrò a pubblicare questo video può essere domani può essere però ora vedrete e valutete voi no niente se sono abbastanza fortino ovviamente appena iniziato adesso quindi è da 2020 che c'è gioco però oggi siamo attiva di oggi adesso andiamo a vedere un po dove buttarci perché siamo ancora con alcuni punti di mappa che devo colorare e e e e e e e e Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. a tutti. e a tutti. 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 sono morto. a tutti. 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 . a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.